In questo carnet disegnato da Giuseppe Palumbo possiamo vedere uno dei castelli diciamo più noti è il castello di Torre Chiara al cui interno c'è un affresco che presenta Bianca Pellegrini nella veste di Pellegrina che si muove diciamo su tutti i territori allora diciamo di loro possedimenti e da lì è nata l'idea di percorrere questo territorio del Ducato di Parma e Piacenza come appunto moderni pellegrini ispirati da questa bellissima donna. Questo stesso percorso è stato tratto attraversato da altri disegnatori tra cui l'euro